Pac, Fulvio Abate Nei giorni scorsi le Sardine hanno riempito a Bologna Piazza Maggiore Lo hanno fatto in risposta al troglodita Salvini Questo paese continua ad avere nel cuore un sentire autoritario, ergo fascista Non aggiungiamo altro Adesso io mi interrogo Posto che le Sardine sono autoconvocate e non si può chiedere loro nulla Se non ringraziarli per quel gesto Adesso devo immaginare che, che so Il prossimo libro di Veltroni si interroghi, anzi si intitoli Le Sardine E che prontamente Francesca Chibugi sarà lì pronta a fare un film intitolato a sua volta Le Sardine E Nanni Moretti fa dalle Sardine 2 la vendetta No, questo vorrei capire E i belli di questa che un tempo si chiamava la stagione della vocazione maggioritaria Torneranno a dire No, solo questo vorrei sapere Sinceramente Chi c'è ancora che deve fare Non c'è anche qualcun altro che deve fare la canzone Le Sardine Terrificante Perché devo dirle io ogni volta queste cose? Ricordi quando quello disse Pancio Pardi? E' come una nullità Vabbè Ho detto